Salve bambini, un bacione a tutti quanti da noi, da noi a casa chiaramente, sperando che tutto ciò termini al più presto, ma nel frattempo andiamo a fare un lavoro che dobbiamo terminare con le classi e l'attività per sabato 14 marzo, se volete lavorare anche la domenica, insomma per lunedì, ok? Sono i compiti per casa. Bene, per primo andiamo a prenderci il nostro quaderno di italiano chiaramente e cominciamo subito a pagina nuovissima a scrivere la data come siamo soliti fare la mattina o comunque vada in un momento della giornata. Quindi scriveremo se lo farete domani, sabato 14 marzo 2020. Poi, come vedete nell'esempio, vi ho disegnato una cornicetta sotto questa data. Se volete potete farne anche una a vostro piacere. Io così, per rendere graziosa la pagina ne ho fatta una, ne ho fatta una per farvi vedere insomma qual è possibile farlo. Voi potete fare come volete. Poi, sotto questa cornicetta scriviamo il titolo, questo qui che vedete nelle nuvolette, e cioè i suoni corrispondenti all'esercitazione che faremo. SCA, SCO, SCU. Dentro le nuvolette, poi le colorate e poi sotto questo titolo, che potete scrivere anche con la vostra penna rossa cancellabile, non c'è problema, scriviamo di nuovo un sottotitolo. Parole con, iniziamo con che cosa? Con SCA. E quindi, di seguito, cominciamo a scrivere la prima parola, che se volete potete anche farvi dettare dai vostri genitori. Non è un problema, è un esercizio in più. Però potete anche fare alcune parole, insomma quello che volete. È importante che andate a scrivere, a rileggere quello che avete scritto. E le scriverete, come potete ben vedere dalla pagina, nei due modi, cioè lo stampato grande e lo stampato minuscolo. Adesso iniziamo. La prima parola sarà SCARPA. SCAR-PA. Due sillabe, ma una parolina abbastanza lunga, di sei lettere. Quindi, insomma, complicatina, eh? SCAR-PA. Quando vi sentite pronti, l'avete scritta, potete ricopiarla, trasformarla in stampatello minuscolo e poi accanto fare questo disegnino carino che già vi ho dato l'esempio, quindi potete o ricopiarlo, farne una di vostro, di vostra fantasia. Poi si passa alla successiva che è SCA-TO-LA. Tre sillabe, bene. E poi scrivete nei due modi. SCA-TO-LA. Disegno. Potete eventualmente sospendere la registrazione perché a me, me potete pure stoppare, mi potete fermare, questa è la gioia dei nostri cuori perché così almeno smette di parlare, e stoppate la maestra. Bene. Proseguiamo. Questa volta la lettura della parola è diversa. Attenti. Leggerò le singole lettere. Voi lo dovrete capire a quale parola corrisponde. È un dovinello, diciamo, in gioco, no, che noi facciamo di solito. Pronti? S-C-A-L-A. Avete capito? Penso proprio di sì. Scala. Poi passiamo alla prossima. Alle prossime, ce ne abbiamo ancora quattro. Allora, pronti? Proviamo sempre con le singole lettere. Cerchiamo di riunirle. Vediamo quanto siamo bravi. Pronti? memorizzate le lettere. V-A-S-C-A. La parola è vasca. Molto bene. Disegnate, fate tutto per bene, stoppate la maestra quando necessario. Potete farlo in un qualsiasi momento. E adesso proseguiamo. t-A-S-C-A. Avete capito? Esatto. È proprio quella. T-A-S-C-A. Come potete ben sentire i suoni S-C-A-S-C-O-S-Q non si possono mai separare. Questo ricordatevelo, eh? Poi proseguiamo. l-I-S-C-A. Le posso separare perché le dico ognuna al suo spazio di suono. Ma se devo sillabare, devo dire, devo leggere l-I-S-C-A. E fate questo bel disegno sulla l-I-S-C-A. Poi proseguiamo con P-E-S-C-A. O meglio, l'ho detto bene? Ma la pesca quella che si fa, si va a fare al mare o al lago o al fiume? Oppure P-E-S-C-A? Beh, scegliete voi, eh? Potete anche scegliere. Io avevo scelto P-E-S-C-A. Molto bene. bene. Ora proseguiamo, e voi proseguite, proseguo velocemente leggendo velocemente le parole, eh? Quindi le parole, questa volta fate il titolo con questa parole con S-C-O, nuvoletta, S-C-O dentro la nuvoletta. Poi proseguiamo, poi proseguiamo. Bosco, 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 Casco, 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 Disco, Di-S-C-O, Scopa, Scopa. Ora una parolina lunghina, eh? Scogliattolo. Scogliat, scogliat, perché c'è una doppia, scogliattolo. Bene, poi scodella, scodella, anche qui c'è una doppia. Poi proseguiamo, voi potete stopparmi quando volete e scrivere con calma, parole con S-C-U, questo è l'altro titolo e qui ne abbiamo fatte pochine, voi se volete potete anche pensarne altre, ma bastano anche queste, eh? Proviamo. Scu-do. Scu-do. Poi scu-re. E poi finale, non ci poteva essere, non mancare, non ci poteva non essere. Bene, proseguiamo adesso con questa nuova pagina. Come vedete, questa pagina ha, a che cosa? Ha dei numeri. Perché, come siamo già abituati a fare, noi quando guardiamo una pagina cerchiamo di capire cosa devo fare e questo è importante. Cosa vi chiede la maestra quando dovete eseguire degli esercizi? Andiamo a vedere sempre i comandi, quindi dobbiamo capire bene i comandi. Quanti ce ne sono? Seguiamo i numeri. Uno, bravissimi, con scrivo le, le frasi. Quindi voi accanto ci avete, avete visto che io vi do il consiglio. Uno, scrivi nel quaderno il titolo dell'esercizio. Poi sotto l'ho riscritto, ho scritto più grande, è il comando numero due e cioè ricopiate o in stampato grande o in stampatello come meglio credete, scrivo una frase con una parola che contiene il suono ska, una con sco, una con scu. Io potrei dirvi scusatemi per questi compiti, scusatemi davvero, però sono necessari, grazie per la vostra collaborazione. Benissimo, benissimo, adesso siamo passati a quest'altra pagina un po' più coloratina. Ecco, questa diciamo che è un po' più complicata, chi la vuole fare, la può fare, è diciamo a piacere, una pagina che io vi consiglio perché avete il tempo per farlo e anche se volete potete anche imparare la memoria, come volete. La cosa importante è guardare bene la pagina. Quanti comandi ha? Guardiamo un po' i numeri. Numero uno, nel tuo quaderno scrivi il titolo della storia. Voi andate a vedere, scrivo la storia, i tre topolini. Due, ascolta la lettura della maestra che adesso vi farò insieme, quindi la leggeremo. Tre, e questo veramente è un bel esercizio, ricopia la storia qui sopra e puoi scegliere di scriverla o in stampato maiuscolo o minuscolo. E infine, perché non è mica finita, e infine cerchiate, scasco o scu, nel testo che avete ricopiato voi. Tutto chiaro? Se non fosse chiaro, basta tornare indietro sulla registrazione e risentire da capo. Bene, adesso vi leggerò i tre topolini. Voi, mi raccomando, come siete già abituati, seguite la lettura con il ditino sulle paroline. Io cerco di andare lentamente in modo tale che voi potrete anche, diciamo, seguire con più tranquillità. Va bene? Mi raccomando, è la lettura. I tre topolini. Sulla scala della soffitta rimbombano dei passi. Tre topolini corrono a nascondersi. Dentro, proprio uno dentro, ha un vecchio scarpone. L'altro, dietro, una scatola. E il terzo, sotto un casco, tutto polveroso. Tutto chiaro? La rileggo. I tre topolini. Voi seguite? Rallento ancora di più. Sulla scala della soffitta rimbombano dei passi. Tre topolini corrono a nascondersi. Uno, dentro, ha un vecchio scarpone. L'altro, dietro, una scatola. E il terzo, sotto un casco, tutto polveroso. Bene, adesso passiamo all'ultima parte dove, in questa pagina, vi saluto. A presto, bambini. E mi raccomando, non perdiamo l'allenamento alla lettura. Inoltre, vi ho messo un link, se volete. Ve lo invierò anche via WhatsApp. Se volete, potete andarci. È un libro letto da una mia amica maestra, intitolato La lingua speciale di Ori, che potete trovare, peraltro, anche nel sito della scuola. Un abbraccio a tutti. A presto. A presto. Un abbraccio a tutte le famiglie.